Le immagini che state osservando sono state registrate quasi un anno fa. Oggi, a poco meno di 12 mesi di distanza, questo vecchio oratorio abbandonato è pronto per la sua nuova vita, accogliere i bambini che hanno bisogno di cure mediche importanti e le loro famiglie. Siamo all'Ortica, quartiere di Milano che mantiene a tratti la sua natura di antico borgo ed è qui che Unitalsi, l'associazione cattolica che si occupa del trasporto degli ammalati nei santuari, ha deciso di ristrutturare questo oratorio creandovi sei appartamenti con bagno in grado di ospitare fino a 22 persone, una grande cucina e tutti i servizi necessari a coloro che sono costretti a venire a curarsi in città senza avere un luogo dove dormire. Una vera e propria casa che Unitalsi ha voluto dedicare a Fabrizio Frizzi, storico volto della televisione italiana e grande amico e sostenitore dell'associazione. A gestire questi spazi saranno un nonno e una nonna, volontari di Unitalsi, che lasceranno la loro casa per dedicarsi al fianco dei volontari del servizio civile dei nuovi piccoli ospiti che arriveranno già entro la fine di marzo.